A Tolfo c'è un castello che si chiama La Rocca. È fatto di piccole viette, una sopra l'altra. Quando si passa è come una magia. La magia per me è una cosa che si inventa in testa. Può essere o l'immaginazione, oppure che puoi inventare delle cose tu. Come un sogno che ci avvera. Ci sono due tipi di sogni. Un sogno ad occhi aperti e un sogno ad occhi chiusi. La fantasia è che ti vengono le cose nella mente. Quando pensi a una cosa che vorresti che esistesse, però che non esiste. La fantasia serve per giocare un amico insieme. La cosa più bella della vita è giocare. I giochi più belli sono quelli pieni di fantasia, inventati. Tolfo è proprio così. Un incredibile, fantastico gioco. Dove la realtà e la fantasia ci uniscono. Quando io sono lì, mi senti felice. Tolfo è proprio così. La magia si fa strada.